Nuovo appuntamento con le interviste ai candidati algheresi alle prossime elezioni regionali del 24 febbraio. Quest'oggi con noi Laura Giorico, candidata con Forza Italia, sostegno di Cristian Solinas, presidente. Benvenuta. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Come abbiamo fatto con tutti i candidati e faremo con quelli successivi, una piccola scheda di presentazione della candidata, Laura Giorico, nata nel 1957 ad Alghero, città nella quale vive, attualmente esercita la professione di medico-chirurgo presso un'unità operativa dell'ospedale Marino di Alghero, sposata e madre di due figlie, da sempre impegnata in attività sociali e benefica, è stata la prima di non eletti al Senato con Forza Italia alle ultime elezioni politiche. Noi rompiamo il ghiaccio con la prima domanda, che è quella relativa alla candidatura, il perché di questa candidatura, perché con Forza Italia? Bene, dopo oltre 30 anni di professione, sempre a disposizione dei pazienti, ho deciso di dare il mio contributo, perché ritengo che i cittadini abbiano la necessità di avere una classe dirigente onesta e capace di governare il nostro territorio con competenza. Il nostro territorio è ormai un territorio impoverito da una economia stagnante. Certamente ci sono delle emergenze molto importanti, la sanità, i trasporti, la continuità territoriale, lo spopolamento, la disoccupazione e le difficoltà delle piccole e medie imprese. Per non parlare delle aziende agropastorali, voglio fare un breve accenno alle problematiche sorte per il costo del latte. Qui voglio dare la solidarietà ai pastori sardi, condividendo la giusta protesta per l'irrisolto problema del costo del latte. Un lavoro che sicuramente non è gratificato e non dimentichiamo che i pastori sardi sono una parte fondamentale della nostra identità culturale. Questo problema sicuramente interessa 15 mila aziende che sono in crisi e quindi dobbiamo trovare dei rimedi diversamente da come è stato fatto da questa giunta regionale. Lei lavora, opera nel campo della sanità. Sicuramente sono tante le problematiche che riguardano Alguero, nord-oveste dell'isola. Certamente, se consideriamo che il polo sanitario Alguero-Uzzieri è d'altra parte una infrastruttura di fondamentale importanza per lo sviluppo socio-economico del nostro territorio e tra l'altro incide profondamente sulla qualità della nostra vita, ebbene io sono qui a battermi per ottenere le risorse necessarie, a finanziare la realizzazione di quanto è necessario per riportare il nostro ospedale, la nostra struttura ospedaliera a livelli che competono ad una grande città come Alguero. Non voglio entrare nelle questioni tecnico-legali che hanno portato alla chiusura del nosocomio sassarese, il policlinico sassarese. Mi chiedo che cosa tuttavia abbia fatto il sindaco e gli esponenti della maggioranza di governo per salvare gli ultimi 80 posti letto convenzionati della nostra provincia di Sassari? E che cosa abbiano fatto per garantire la dignità di centinaia di madri e di padri che rischiano di perdere il posto di lavoro? Tuttavia sono stati capaci di inventarsi la TS, una struttura mastodontica fatta passare come una formidabile innovazione amministrativa e invece sono convinta che l'aver unito tutta la totalità della gestione delle competenze prescindendo dalle peculiarità del nostro territorio sia stato un enorme errore. Sono molto preoccupata dal fatto che le nostre eccellenze siano state sistematicamente smantellate da questi governanti miopi che hanno svilitto le istituzioni millenarie come la nostra Università di Sassari, umiliando altissime professionalità in ogni settore della ricerca e soprattutto nell'ambito sanitario. Ecco abbiamo parlato delle problematiche della nostra sanità, della sanità del nord ovest, abbiamo parlato di Alghero, anche di Sassari, del policlinico sassarese, come si può cercare di risolvere il problema? Intanto consultando le istituzioni locali che sono il vero tessuto sociale del nostro territorio e soprattutto dando voce ai medici e agli operatori sanitari sempre presenti sul campo e spesso trascurati. Sono certa che se coinvolti nella programmazione generale i nostri operatori sanitari con la loro esperienza e con la loro competenza apporterebbero tutti quei valori ormai persi come l'umanità e la dedizione, ridando fiducia e dignità ai pazienti che finalmente potranno esercitare il loro sacrosanto diritto di avere prestazioni adeguate in tempi ragionevoli e soprattutto così da porre fine a quelle odiose file d'attesa. Chiudiamo l'intervista come con tutti i candidati con l'appello al voto, perché allora votare per Laura Giorico e per Forza Italia. Perché la mia storia personale di medico, di madre e di donna impegnata nel sociale sarà la garanzia che sarò sempre presente in prima linea per favorire la rinascita della nostra terra e vigilerò presidiando tutti i tavoli decisionali fino a che non sarà raggiunto il legittimo obiettivo di ridare dignità alle istituzioni e a tutti i cittadini sardi. Grazie e un bocca al lupo. Crepi il lupo. Grazie. Grazie.